Si vede? Oh, fammi sistemare. Oh, ben trovati amici dei termoginocchi. Oggi sono qua con un video io, che un anno fa non sapevate nemmeno com'era la mia faccia, adesso faccio i video, per parlarvi delle live su Twitch. Perché? Perché ormai abbiamo raggiunto i 30.000, 30.000 iscritti su YouTube e tanti di voi non sanno che facciamo appunto queste live tutti i giorni e sono qui appunto per dirlo. Cioè sono bravo, sono un uomo bravo. Facciamo live tutti i giorni dalle 8 alle 9, tranne il sabato che la facciamo di pomeriggio, 8 e 9 di sera chiaramente, tranne il sabato pomeriggio che la facciamo alle 4 alle 5 iniziamo di pomeriggio, fino a non ci sa. in genere le facciamo sempre da un'ora, il sabato dipende. E niente, sono qua solo per dirvi questo e anche per approfittare di questo video qua, appunto per provare la GoPro, visto che adesso ce l'ho e posso fare anch'io qualche video per il canale. Non facciamo fare tutto a Moro, che poi dicono Moro, sempre in mezzo, dai! Sempre in mezzo Moro, sempre! Ogni tanto vedete anche una faccia nuova, no? Purtroppo per voi! Quindi tante care cose a voi, alle vostre famiglie e ai vostri animali domestici. Grazie, ciao! Grazie a tutti!